Non voglio stare nella squadra delle femmine e... Giuro che se parli ancora, ti lego ad una sedia, ti tappo la bocca con qualunque cosa io trovo, e poi ti prendo a pugni fino a quando non si vede lo scheletro della tua fottutissima faccia. Il problema è che lo fa veramente. Ok dai, inizia il gioco. Grazie a tutti.